Ciao amici Value Investor, oggi voglio parlarvi di un Value Investor poco conosciuto ma a mio avviso molto bravo o comunque con dei principi e una filosofia di investimento che mi piace davvero molto. E comunque l'investitore di cui parliamo oggi è John Uber che gestisce il fondo Cyber Capital Management e questo investitore ha elaborato una teoria che ha i tre motori del valore che come il nome suggerisce spiega quali sono i tre fattori che più di tutti determinano l'apprezzamento di un titolo. Una teoria frutto di anni di ricerche da parte di Uber su cosa permette ad un'azione di diventare una multibagger cioè azioni che hanno moltiplicato il loro prezzo. Quindi in questo video parleremo di questo suo metodo e lo faremo come al solito con esempi pratici e reali. Quindi non perdetevi questo video. Questi esempi che vedremo tra poco vengono dalle slide di questa presentazione di Cyber Capital che Uber gentilmente ha reso pubbliche e che ha mostrato agli studenti della North Carolina State University in data 29 marzo 2023. Vi lascio il link in descrizione alle slide. Secondo le ricerche di John Uber ogni azione cresce in modo esponenziale grazie al prodotto di tre fattori che sono appunto i tre motori dell'apprezzamento dell'azione e sono crescita degli utili, cambiamento del valore del pie ratio e cambiamento del numero di azioni dell'azienda. Prima di analizzare i tre motori singolarmente vi do alcuni esempi reali di come questi tre motori hanno determinato effettivamente il successo di alcune azioni che sono diventate delle multi beggar. Il primo esempio riguarda un'azione che dal 2000 ad oggi ha avuto un rendimento medio anno del 22%, cioè il prezzo dell'azione si è moltiplicato dal 2000 ad oggi per 76 volte e questa azienda non ha visto i suoi utili crescere del 20% 30% all'anno ma del 10% all'anno cioè dal 2000 ad oggi sono cresciuti di quasi 9 volte e il pie è passato da 13 a 19 quindi non a 60 cioè il pie è cresciuto mediamente del 2% all'anno e infine per quanto riguarda il motore delle azioni in circolazione questa azienda ha fatto buyback in modo molto aggressivo ed è questo il motore che ha lavorato più dei tre in questo caso perché l'azienda ha comprato l'83% delle sue azioni cioè un buyback dell'8% all'anno in media dal 2000 e questo aumento del prezzo di 76 volte è dato dal prodotto di 8.9 cioè il tasso di crescita degli utili per 1.46 cioè la crescita del pie che è aumentata di 1.46 volte e per 5.88 ossia il buyback CAGR dell'8% all'anno per 23 anni un altro celebre esempio è apple che dal 2016 ad oggi ha moltiplicato il prezzo delle sue azioni per 6.6 volte circa aumentando gli utili di 1.6 volte ossia l'8% all'anno in media il pie è aumentato di tre volte dal 10 a 30 cioè il 20% all'anno in media di crescita e le azioni sono diminuite del 28 per cento cioè un buyback del 6 per cento all'anno a livello CAGR su 6 anni e quindi 1.4 quindi facendo il prodotto cioè la moltiplicazione di questi tre fattori viene 6.6 ossia il prezzo delle azioni di apple si è moltiplicato per 6,6 volte dal 2016 ad oggi infine altro esempio è bank of america che comunque anche se il contributo di ciascun motore è stato modesto in questo caso alla fine il rendimento su 10 anni è stato molto buono cioè il prezzo delle azioni è aumentato di 4 volte e mezzo perché i tre motori hanno lavorato tutti insieme per 10 anni per tanto tempo quindi in questo caso gli utili normalizzati sono cresciuti in 10 anni di 1.7 volte quindi solo il 5% all'anno in media il pie è solo raddoppiato passando da 5 al 10 e il numero di azioni si è ridotto del 24 per cento con un fattore di 1.3 quindi e quindi moltiplicando questi valori otteniamo una crescita del 16 per cento all'anno in media decisamente non male anche con un contributo dei tre motori non eccezionale quindi riassumendo una volta creata la sua lista di potenziali compounder uber stima quali potrebbero essere gli utili tra 10 anni cercando di essere molto conservativo perché uber spiega bene che sono poche le aziende che riescono a crescere a buoni ritmi per tanti anni poi stima quale potrebbe essere il pietra 10 anni anche qua in modo conservativo cercando di stare sotto la media del mercato e stima infine il numero di azioni tra 10 anni quindi quanto potrebbe essere il buyback i tre valori trovati li divide per quelli attuali e il prodotto di questi tre fattori sarà il ritorno dell'investimento quindi dobbiamo comparare il ritorno stimato con quello da noi desiderato per capire se può essere un buon investimento quali sono le lezioni che ci portiamo a casa da questo approccio allora innanzitutto il potere dell'interesse composto come avete visto ad esempio nel caso di bank of america anche senza numeri straordinari in termini di crescita degli utili o buyback se i tre motori lavorano tutti insieme e per tanto tempo nel caso di bank of america per 10 anni l'interesse composto a modo di lavorare e trasformare il poco in tanto infatti anche il risultato di autozone è stato eccezionale proprio perché conseguito su un orizzonte temporale molto lungo di oltre 20 anni cioè l'interesse composto il compounding in inglese ha avuto modo di lavorare per tanto tempo quindi nel caso degli utili non è necessario avere una crescita del 20 30 per cento all'anno basta una crescita anche del 5 10 per cento all'anno ma per 10 20 anni e siamo molto più al sicuro anche perché un'azienda che cresce del 30 per cento all'anno potrebbe anche essere un fuoco di paglia e durare solo due tre anni prima di andare a crescita zero o negativa mentre un'azienda che cresce del 5 10 per cento ma per 10 20 anni vuol dire che ha un solido vantaggio competitivo e quindi che è anche più sicura tra virgolette perché più protetta dagli attacchi della concorrenza quindi più che la velocità della crescita degli utili conta di più quanto a lungo questi utili possono crescere il ritorno sul capitale deve essere consistente cioè buono in modo costante per molti anni perché deve poter consentire all'azienda di crescere producendo cash in eccesso per fare buyback perché il buyback è davvero un motore fondamentale per una multibagger ma deve essere fatto in modo intelligente quando il prezzo cioè è basso o pari al suo valore intrinseco e qua andiamo al discorso del pie aziende come autozone e apple hanno potuto fare molto buyback perché i loro multipli sono rimasti bassi per molti anni quindi il pie basso per molti anni è positivo per un'azienda che cresce e genera molto cash perché a prezzi bassi può comprare molte più azioni a parità di budget disponibile per il buyback e questo spiega perché buffett dice che è contento quando le sue azioni tipo quelle dell'apple scendono di prezzo così il buyback è più efficace e poi c'è da considerare che i multipli bassi con un'azienda che cresce con un elevato roic e elevato buyback prima o poi porterà all'espansione dei multipli quindi il pie da 10 può passare a 20 o 30 come nel caso di apple in modo da moltiplicare il prezzo delle azioni e così che otteniamo una multibagger una 10x o anche una 100x senza contare che avere un'ottima azienda a prezzi bassi per molto tempo addirittura con prezzi che scendono è una situazione che ci permette che ci dà la possibilità di risparmiare i soldi necessari dal lavoro dagli altri investimenti per comprare altre azioni dell'azienda e a prezzi più bassi comprare sempre più azioni ad ottimi prezzi perché la cosa peggiore che può capitare un investitore è aver trovato una rara azienda da 10x e averci potuto investire solo 1.000 euro perché dopo che l'abbiamo comprata il prezzo è subito schizzato in alto mentre uber e anche buffett dicono che loro sono accumulatori di azioni di ottime aziende ad ottimi prezzi meglio 10.000 euro di una grande azienda a un pmc di 100 che solo 1.000 euro della stessa azienda un pmc di 80 allora ragazzi fatemi sapere se conoscete un'azienda che secondo voi può essere una multi bagger perché pensate che possa crescere a livello di utili per tanti anni con un ritorno sul capitale consistentemente buono che produce tanto cash in eccesso per il buyback e con multipli relativamente bassi scrivetelo nei commenti un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da davide